Siamo qui con Giovanni Esposito, migliore in campo nella partita tra Real CKP e Schema 3 7 a 2 per i CKP, Esposito difensore autore di un solo gol e non solo per questo migliore in campo allora perché Esposito? Ho giocato bene, mi trovo bene a Milano Gli hanno regalato pure la valora, gli hanno regalato pure la valora Abbiamo fatto una bella partita, tutti quanti insieme Già, ne andiamo a giocare, rimane Siamo stati grandi, sia in attacco che in difesa, il portiere ha pure fatto la sua parte oggi Il capitano si è fatto il speller La reale sta solo ridendo, perché? Stupitarci, perché ha detto vicino a un ragazzo che è da somma e merda Scusate, che è in campo, puoi fuori dal campo? In diretta, guarda, che criminale Ha rischiato 10 anni di calcio Cioè, mamma, voleva ammattare tutti Io voglio dedicare questo più rincampio Ciao mamma Ciao mamma A chi lo vuoi dedicare? Vorrei dedicare questo più rincampio Campio A Barriale A Barriale E' in Brasetano Che schifo, si le progetti secondo me Non è successo con le donne Non è successo con le donne, quindi Non è successo con le donne Non è successo con le donne Ma ragazzi, ho fatto vicende Si faceva il miglior in campo Scopa Va bene, allora ringraziamo Esposito Ringraziamo Rialce KKP Ringraziamo Banana Barriale Ricciolino Sarà Sbriglia Sarà Sbriglia Un bacio alle mie amanti Un bacio alla tua mamma, hai detto Alle mie amanti Ok, ciao Banana